E benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono Freakon3 Oggi Questo qua è un video che durerà Un minuto raga Dura un minuto Forse quello di meno Perché io vi vorrei vedere che sto caricando Il video di GTA V GTA V è l'episodio 20 Episodio 20 pensate Quindi Sì ragazzi sto pubblicando il video Fra 3 Fra 3 Barra 5 minuti Sarà sul canale Correte a vederlo fra 3 minuti